La Ducati sotto la pioggia andava molto bene e quindi tipo la mattina io mi svegliavo e andavo subito a vedere se si pioveva e Le Mans fortunatamente quella mattina ha piovuto anche perché Le Mans è un posto dove il tempo spesso fa le bizze. Quindi gara bagnata e sai che hai la possibilità, hai la possibilità di fare un podio che è un podio che non dico che ti può salvare la stagione però comunque ti dà un po di respiro contro tutte le critiche, contro tutti quelli che ti dicono che basta, che sei troppo vecchio, che sei finito, che devi stare a casa. Quindi grande motivazione. Poi era stata una gara bella perché purtroppo Lorenzo era andato via subito e quindi non l'abbiamo più visto ma abbiamo lottato molto, l'ho lottato molto con Stoner proprio all'ultimo giro che l'ho superato nella prima chicane e sono riuscito a andargli un po' via. Quindi era stata una bella soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.